Villa Chiaramonte Bordonaro è uno scenario affascinante e prestigioso per l'organizzazione di un matrimonio il cui ricordo rimarrà indelebile nel tempo. Immersa in un'oasi di verde ricca di piante secolari, la villa è situata nel cuore di Palermo. Offre grandi saloni per il vostro banchetto, raffinati e romantici, ricchi di stucchi dorati, decorazioni d'epoca e lampadari di murano che renderanno il vostro matrimonio indimenticabile. Il piccolo giardino d'inverno vi regalerà scorci romantici in cui scattare magiche foto ricordo o ambientare il taglio della torta. Lo staff competente e professionale della location mette a disposizione degli sposi la sua esperienza per l'organizzazione di un banchetto esclusivo e ricercato ed offre un valido supporto per qualunque aspetto dell'evento. La villa propone una cucina prelibata basata su materie prime della massima qualità e su un ricettario ricco delle tradizioni culinarie siciliane. La baronessa Antonella Bordonaro cura personalmente la creazione dei menù e dei singoli piatti, assicurandovi un risultato impeccabile. Costruita nel 1893, Villa Chiaramonte Bordonaro porta il nome di un'importante casata e sarà la cornice perfetta in cui ambientare il vostro ricevimento nuziale in completa tranquillità.